Sono scattati da questa mattina accertamenti economici sul conto delle persone sottoposte a misure precautelari che beneficiano del reddito di cittadinanza. Le indagini sono state organizzate da parte del Comando Provinciale Carabinieri Napoli e vedrà coinvolti tutti i comandi e i reparti dell'intera provincia partenopea. I militari dell'arma, nucleo ispettorato del lavoro partenopeo, hanno esaminato le posizioni economiche di 307 persone sottoposte a misure precautelari. Di queste 146 hanno beneficiato illecitamente del reddito di cittadinanza per una percentuale pari quasi al 50%. Questo monitoraggio riguarda solo il mese di febbraio. Dagli accertamenti in corso relativi al mese di marzo, il trend sembra però essere simile. I carabinieri hanno segnalato all'autorità giudiziaria i casi analizzati per l'interruzione del beneficio. Il maggior numero di segnalazioni arriva dal quartiere di Scampia, seguito poi dal comune di Torre Annunziata e dal quartiere partenopeo di Secondigliano. Le indagini urgenti in materia di reddito di cittadinanza prevedono la sospensione dello stesso e meccanismi di rideterminazione degli importi del reddito a carico del beneficiario qualora all'interno del suo nucleo familiare ci sia una persona sottoposta a misura cautelare.